Tanta paura ma nessun danno a cose o persone dopo la scossa di terremoto non forte ma intensa che si è sviluppata la scorsa notte nell'area flegrea, epicentro del sisma, il comune di Quarto, a pochi passi da Pozzuoli. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una magnitudo di 1.9 all'1.28 e una profondità di 2 km che ha fatto sì che l'evento fosse avvertito dalla popolazione anche a fuori grotta, Soccavo, nell'area di Agnano e a Pianura. Molta gente ha subito segnalato la scossa sui social, in molti hanno scritto anche di un boato molto forte nitidamente udito per chilometri di distanza, un fenomeno che si inserisce nell'attività sismica regolare dei campi flegrei come ha affermato la professoressa Bianco dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questo evento va contestualizzato comunque in quella che è l'attività in corso nei campi flegrei ovvero sia ombra di sismo che a partire dal 2006 ha fatto sì che il suolo nella zona di Rione Terra si sollevasse di quasi 50 cm. Allarmismi mai, bisogna che crei comunque come il fenomeno che stiamo osservando sempre un'attenzione perché i vulcani dell'area napoletana sono tutti vulcani attivi e quindi bisogna avere l'attenzione e bisogna sapere il fenomeno in corso qual è.